Fai del tuo sogno una realtà, anche se non riesci a rappresentare la perfezione e con spezzate non sai più volare. Seppur parole di cemento vanno oltre il tuo impegno e ciò che più ami diventa il tuo peggior nemico, anche se le sue fauci sembrano inghiottirti in un limbo di delusioni. Ricorda che non ci sono persone perfette, ma perfetto è ogni momento della tua realtà. Grazie a tutti.